Tra i fruttetti del Saluzzese, ai piedi del Monviso, troviamo il ristorante Moonway. La cucina piemontese offre una ricca scelta di antipasti, primi, carni e specialità con ingredienti provenienti da produttori cunesi che riportano in tavola i gusti di una volta. La vecchia cascina ristrutturata è l'ambiente ideale per banchetti, cerimonie e matrimoni e l'ampio giardino è il posto ideale per riti civili, aperitivi all'aperto, grigliate, feste. Il piccolo albergo, vera oasi di tranquillità, offre camere con soffitto in legno, calde e rustiche. Ottimo spunto per passare un weekend a visitare le meraviglie delle nostre valli. Ristorante Moonway a Manta in via Vernea 21, 0175 88884, www.moonway.it